11 persone sono state arrestate dalla polizia a Palermo per spaccio di droga. L'organizzazione operava a Ballarò. L'indagine effettuata dalla sezione contrasto al crimine diffuso Falchi ha permesso attraverso servizi di intercettazione telefonica, attività di perquisizione e sequestro di acquisire elementi probatori nei confronti degli appartenenti al sodalizio criminale. Un'organizzazione stabile e resa più salda da vincoli familiari e coniugali fondata sull'interscambiabilità delle risorse umane e dei ruoli esecutivi delle stesse, su luoghi comuni di detenzione, sull'utilizzo comune di più utenze telefoniche e mezzi di trasporto, sulla gestione condivisa di una cassa per provvedere al sostentamento esclusivo di tutti i gruppi familiari appartenenti all'associazione, nonché sulla condivisione e sullo scambio dei canali di rifornimento delle sostanze stupefacenti e dei clienti assuntori. L'attività di spaccio risultava destinata infatti ad una stabile selezionata e fidelizzata clientela composta da numerosi consumatori residenti al tessuto urbano ed extraurbano ai quali veniva consegnata la droga presso il proprio domicilio dopo che questi avevano contattato i pusher tramite utenze telefoniche dedicate ad hoc. In occasioni residuali gli stessi consumatori acquistavano invece lo stupefacente dietro appuntamento a Ballarò per lo più perché i fornitori di riferimento si trovavano in regime di arresti domiciliari. L'elevatissima attività di smercio di sostanze stupefacenti di varia tipologia ha consentito di registrare numerose richieste conseguenti consegne tanto che nel periodo monitorato se si tiene conto di una sola delle utenze sono state registrate in un periodo circoscritto e più precisamente dal 25 maggio al 10 luglio 2017 2288 chiamate provenienti da 200 utenze di cui almeno una settantina in usa soggetti che facevano richiesta di consegna di stupefacente anche più volte al giorno.